Mamma mia da quanto non sentivo questa canzone Comunque salve a tutti blazers e benvenuti in questo nuovo video della serie di lego fortnite L'avete già lasciato il like? Vi siete iscritti per non perdervi nessun episodio? Avete già messo sul supporto a un creatore il codice IBL cioè il mio codice per supportarmi? Ecco cosa succederà per chi non lo farà E vabbè niente è dovuto pure cadere E questo invece per tutti quelli che supporteranno E bentornati nel mio bellissimo villaggio Vi piace come ho trasformato il villaggio? Mi fate sapere nei commenti se lo trovate bello, ordinato A me piace molto E non è di sicuro per questo motivo che probabilmente lo sto per abbandonare Perché sì, dovremo intraprendere un viaggio in questo video e forse abbandonare il mio primo villaggio Credo che sia la scelta migliore purtroppo Siccome sono molto pigro per farlo voglio anche costruirmi un mezzo, una sorta di macchina che ci aiuterà a spostarci Ma ci arriviamo per gradi Come sempre i video di questa serie sono ricchi di eventi Se voi vedete che nel titolo c'è scritto una cosa sappiate che quella è solamente una delle tre o quattro cose che faremo durante il video Ad esempio, dove Mizziga sono finiti tutti gli abitanti del mio villaggio? Ci sei solamente tu? E dove è finita Giovanna? L'MPC iniziale? Sapete io non l'ho più visto È sparita, non c'è più, se n'è andata Comunque sarà bene importante continuare a fare upgrade per migliorare il villaggio E come vedete qui serve solamente nodo torto Che ora abbiamo in abbondanza perché l'ho preso dall'ultima caverna E le lasse di granito ce ne servono ben 30 Queste non sono per niente poche Ma possiamo subito andare a farle Non ci costa nulla se non appunto il granito stesso Quindi si va in casa Questa porta che si apre di qua Anziché all'interno mi dà un fastidio boia ogni volta 30 di granito Andiamo qui fuori dove tra l'altro stavo facendo invece il marmo Che ci prendiamo subito Mettiamo granito E depositiamo questi 30 di granito Per fare l'upgrade Ci metterà un bel po' a lavorarli Quindi intanto noi ci faremo altre cose probabilmente Tipo mangiarci una succosa bistecca Così riacquisiamo anche un po' di vitalità E finalmente utilizzando la lastra che ho appena preso E il nodo torto Ci craftiamo il forziere medio Che per ora metto Ma io metterei tipo anche qui in mezzo alle balle E finalmente possiamo goderci un inventario come si deve Guardate quanto spazio che c'è Andiamo a buttare giù un po' di robetta Che non ci serve E mentre il villaggio ha un upgrade molto facile davanti a sé Il banco da creazione epico Ci propone questa situazione qui 15 lingotti di rame Che non ho la più pallida idea attualmente Come ottenere La lastra di ossidiana Che scopro ora che esiste Ottimo E la squama di bruto Che ho paura Che sia una squama rilasciata dai boss Non so se sono loro i bruti Però vedendo il loro aspetto E sapendo che non dovrebbero esserci altri nemici in giro Credo che dovremmo fare una boss fight Per potenziare questo banco Non proprio benissimo diciamo Però attrezzi epici Sarebbe già un qualcosa Non mi dispiacerebbe ottenerli finalmente Nel mentre io il piccone raro non posso ancora craftarlo Perché ci serve questo legno flesso E che cos'è il legno flesso? È il legno che forse troveremo nella zona calda È un'ipotesi Non lo so Ma direi che non ci resta che andare a verificare E abbiamo quindi la nostra prima quest Dobbiamo raggiungere la zona calda Intanto qua zoomiamo un po' all'infuori Questa è la zona calda È in realtà molto vicina Come potete vedere E dobbiamo andare a vedere se Gli alberi di quell'area Sono diversi Io sinceramente non ne ho la più pallida idea Però spero sia così Spero sia semplice che Non do... Sto per annegare vero? Vici Oddio la stamina Che rischio Dicevo Spero che sia abbastanza semplice come cosa E che non dovremmo inventarci Di non lo so Andare in qualche caverna strana A cercarlo Perché se no Non finiamo più E guarda un po' Siamo praticamente Dietro casa Ragni Dicevo Siamo praticamente dietro casa E c'è una struttura Che non avevo mai visto prima E sì È come quella che ho nel villaggio Ma distrutta Andiamo a vedere se c'è qualche Non c'è manco la scala ragazzi Non c'è manco la scala Eh Forse per salire dovrò craftare io stesso la scala Ma chi mi sta Ma c'è un ragno Ma mi è salito un ragno a hittarmi Ma che palle Mai Un po' di pace Qui dentro eh E che roba Ok Forse questa scala Non è proprio comodissima Ti prego dimmi Che si può usare in qualche modo Perché se no Sono tipo disperato Se faccio così Eh vabbè Abbiamo hackerato tutto ragazzi Ha hackerato il sistema E sinceramente Sì Belle le zucche Ma io speravo in qualcosa di più Quindi Niente Andiamo Andiamo sotto Vediamo se c'è qualcos'altro Va bene Lamponi Direi che non è andata per niente bene Piove E sta arrivando la notte Quindi situazione Ideale Per Farci seguire Da un lupo No signor lupo No Ci lasci un po' in pace Io ormai non so più cosa farmene Del suo drop Dicevo Situazione ideale Per affrontare questo bioma Che di base sarebbe caldo E questa pianta Io non ho mai provato A distruggerla Quindi sperando che quest'ascia vada bene E che sia il legno flesso Facciamo un tentativo Intanto si rompe E che è già una buona cosa Però questo è legno normale E là C'è un boss Credo Credo di aver visto correre un boss Sì esattamente Perché ne spawnano in continuazione ultimamente Che ho fatto di male Aspetta un attimo però E questo? E questo è il legno flesso? Potrebbe essere Questo qui Legno normale Ma come legno normale? Ma qual è il ragionamento Alla base di questo gioco? Perché questo ragno è così potente? Ma che sta succedendo? Datemi del legno flesso Come funziona? I cactus Esatto Come ricordavo Non si rompono proprio Avevo provato tutti gli strumenti disponibili Per romperli Ma niente da fare E ragazzi Io a sto punto Non ho idea di cosa sia Questo legno flesso Questa è una pianta di peperoncino E quindi A posto Non possiamo farci nulla E per il resto Abbiamo provato già un po' tutto Cosa devo fare? Dove lo trovo questo legno flesso? Ok Io Avrei una teoria Secondo me Il legno flesso Sono i cactus Perché mi ricordano Alla fine Il legno nodoso Tu li puoi colpire Esce il danno Ma il danno è zero Quindi non ho gli strumenti adatti Per romperli Intanto Mangiamoci questo Perché altrimenti Soffriremo il caldo Giusto per fare Una piccola esplorazione Qui E poi andarci Nel succo Grano Va bene Prendiamo Prendiamo tutto Ehi Ma qua c'è un altro arcobaleno Andiamoci subito Comunque stavo dicendo Sì Secondo me Il problema è che ci serve Un oggetto più forte Per romperlo Ma l'oggetto più forte Lo otterrei Upgradando la crafting Che al momento Non mi sembra A portata di mano Quindi dovrei già averlo L'oggetto Io posso craftare Teoricamente Il piccone Ma il piccone Non mi serve Per rompere il cactus Giusto? Mi serve un'ascia Presumo Quindi Come si fa? Senza contare poi Che il piccone stesso Mi richiedeva Le verghe Di questo nuovo legno Che io non ho Quindi Non posso farlo E Ce la faccio ad arrivare Io spero di sì Ok Salve Ma buonasera Aspettate che qui fa caldo Quindi se ci possiamo anche muovere A dare il drop Dove l'avete messo il mio drop? Eh ho caldo Lo so che ho caldo Ma dove è finito il drop Che avete Buttato? L'avete buttato di sotto? Ma scusa Dove? Dove sta? Eh sì è di sotto Ma così Buttato per terra Che maleducati Lo so che ho caldo Un attimo Che saltiamo fuori da qui Ok Siamo a posto Teoricamente E ora ci mangiamo La torta di frutta Così recuperiamo Un bel po' di Vigore E quant'altro E siamo a posto Mentre mi hanno dato Uova Eh beh Peperoncino piccante Sì ma in realtà Niente di troppo Esagerato Un bel badile Non comune Però sì Potevamo anche farne a meno Diciamoci la verità Ed eccoci tornati a casa Con un bel pugno di mosche Lì almeno le lastre Si sono fatte E tornando alla tavola Da creazione Sì ragazzi Io solamente Questo piccone raro Che potrebbe essere Il prossimo upgrade Però mi richiede Verga di legno flesso Eeeh Come si fa? Probabilmente E allora sì Devo prima aggiornare Questo Devo Avere il banco E la creazione epico Per forza di cose O mi manca Un oggetto Che sblocchi Il crafting Dell'ascia E se dovessi fare Questa cosa qui Il problema è Dove diamine lo trovo Il rame e l'ossidiana Perché va bene il boss Ma il resto Dove lo devo trovare? Non lo so Sento che è un attimo Dove siamo bloccati Ma ne usciremo sicuramente E no Non ho bisogno di Soluzioni Voglio scoprirlo da solo Comunque Prendiamoci questo bel materiale La segheria Eeeh L'arcolaio Non può fare niente di che Sapete che cosa forse? Lo spacca gemme No Il taglia gemme Si chiamava Il taglia gemme Potrebbe essere interessante Forse dovremmo provare a farlo Lastra di marmo Per 20 Ambra grezza Artiglio Delle sabbie E guscio Il guscio L'ho appena raccolto Ma Ne ho uno solo qui E non credo di averne Delle altri Giusto? Probabilmente Si Ho già fatto un casino Con ste chest Non trovo più la roba Ma Non credo di averne Degli altri Poco male Per ora Andiamo a fare l'upgrade Del villaggio Quindi Livello 6 Let's go Guardate che Fico E c'è Un gufo Ora sul totem E una marmottona E il prossimo Livello Che potrei già fare Richiede Verghe di nodo torta E lastra di marmo Tutta roba accessibile Tra l'altro Con l'arredamento Bagno Parco pacifico Va bene Che cosa abbiamo Sbloccato di nuovo? Vediamo un po' Ok Garage indipendente Padiglione grazioso E sono proprio Le build di parco pacifico Che figata sta cosa E abbiamo ovviamente Tutti i vari pezzi Di queste build Abbiamo delle nuove recinzioni Delle ringhiere Anzi Bello Ci sta E altri pezzi Di tetto Tra cui Il Dispulvio Grazioso Va bene Perché no Tappeti nuovi Per quanto riguarda L'arredo Abbiamo un letto nuovo Una nuova lampada Anche belli divani così Fichissimi Ok Superfici C'è un nuovo tavolino E per quanto riguarda Le altre parti Cosa ci manca? Devo solamente segnarle Ma ora È tempo di Eseguire Il mio piano malvagio Voglio provare a creare Un mezzo di trasporto Il primo possibile E non sarà facile Perché credo Mi manchi Una base Di Mezzo di trasporto Qualcosa Che mi permetta Di Navigare Di cavalcare Un mezzo di trasporto Ma noi ci proviamo Lo stesso Perché Se tecnicamente Riuscissimo A creare Un paio di questi Propulsori Anche quelli piccoli Vanno bene Quindi Verga di legno Polvere a sparo E torcia Verga di legno Guarda un po' Ce l'abbiamo già Polvere da sparo Dovrei avercela In una di queste Non è qui Forse qui No Forse l'avevo messa Qui dentro O qui dentro La devo cercare Eccola Polvere da sparo Molto bene Quindi ora Possiamo crearci Dei propulsori E anche Tecnicamente L'interruttore Quindi Se noi creiamo Delle fondamenta Su cui mettiamo Dei pavimenti Magari anche una chest Poi spacchiamo Le fondamenta Tecnicamente I pavimenti Resteranno Fluttuanti Per i fatti loro Se attaccassi Poi i propulsori Dovrei riuscire A ottenere Qualcosa Che si può muovere Forse prima del tempo Perché mi sa di cosa Molto buggata da fare Dai trailer Che ho provato a vedere So che dovrebbe esserci Proprio un elemento Fatto apposta Per essere reso mobile Una sorta di piattaforma Che può sgusciare in giro Noi non l'abbiamo Quindi proveremo A fare sta cavolata Quindi io pensavo Di mettere Questo Questo qui Credo che Non si possa muovere In alcun modo Però Però Se sopra Gli mettiamo I pavimenti Medi no Servirebbe Un pavimento Grande Tipo questo Gli ne mettiamo Sopra un paio Forse anche tre Però Allineati Possibilmente Cos'è sto scempio Qui sopra Ci mettiamo Giusto Una Chest Così Per fare un esperimento Però mi servirebbe L'assi di legno Niente esperimento Niente chest Va bene Come l'ho detto Spacchiamo le fondamenta Quindi se io spacco Le fondamenta Si è un po' Scassato tutto Ma questo rimane No Questo qui Rimane E non ha più Delle fondamenta È appoggiato Nel nulla Quindi Se Tanto mi da Tanto Andando ad aggiungere Il propulsore Piccolo Lo mettiamo Aspetta È girato giusto Penso di sì Lo mettiamo Uno qui E ne mettiamo Uno qui E poi Andiamo a mettere Una leva E Uno E due E tre Let's go Funziona Funziona Non dovrebbe Ma funziona Aspetta Aspetta Fermati 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 Bellissimo Ho creato La prima macchina In Lego Forte Non c'è solo Un piccolo problema A parte tutti quegli arcobaleni Sono dall'altra parte Ovviamente Ma come la giro Come Come si fa A girarla Non lo so Forse Se io spaccassi questi Non mi ridanno i materiali Piango ragazzi E allora facciamo una cosa Una cosa fatta bene Andiamo di qua Con un solo propulsore Perché se no Mi costa davvero troppo E La leva La posso ancora fare E cambiamo così direzione Ma Però io come faccio A decidere Ogni volta Come girarmi Questo sarà un attimo Da studiare Forse mettendo più leve E propulsore Andiamo ad attivarle singolarmente Vai Sì Parte Ok Un propulsore solo Devo dire che è molto lento E si è fermato Ehi Davo un po' Si spegne Mi stai dicendo ciò E se ne mettessimo un altro Ma mettiamone un altro Dai Divertiamoci Finché si può Mettine un altro E vola così E' un po' sbilanciato adesso però Mi sa che si è un po' sbilanciato Stiamo andando in tondo Mi sa che questa cosa Sì Bellissima Divertente Ma non ci porterà da nessuna parte Se Se sposto un po' il baricentro Cosa succede? No Niente eh Beh E' stato un esperimento interessante Sì Diciamo che purtroppo Non è il mezzo di trasporto Che mi svolterà La serie Non posso andarci Esattamente dove voglio E sto notando anche un potenziale problema Ovvero che io vorrei farmi una base A cavallo tra i biomi Vorrei trovare un punto Di vicinanza tra La pianura Dove piazzare la base Il deserto E le zone innevate In modo da Averle Tutte e tre A portata di mano Non so se questa situazione Si realizzerà mai però Perché guardando la mappa Mi sembra che i biomi Siano distanziati Volontariamente Vedete Certo Da qui Forse non è il punto più comodo Stare qui potrebbe essere Un bel misto No? Magari questo punto Ha Un'equidistanza Dalle due caverne Però Sì ragazzi Mi sa che stasera In live Su Lego Fortnite Esploreremo un po' Per cercare un luogo Dove spostarci Se troviamo un luogo giusto Che vale la pena utilizzare Potremmo spostare lì Il nostro villaggio E rifare una casa Certo che i mezzi di trasporto Sono molto interessanti Se avessimo davvero La mongolfiera Vi immaginate quante cose Potremmo visitare In pochissimo tempo Ci sto pensando Ma sicuramente dovremmo fare Tanti upgrade Prima Arrivati a questo punto So perfettamente Come voglio finire Questo episodio Bisogna tornare Nella caverna Del deserto Se abbiamo bisogno Di materiali Quei materiali Si troveranno lì Per forza di cose È il posto perfetto Dove trovarli Quindi Rechiamoci lì E cerchiamo Quello che ci può servire Per fare gli upgrade Mi sa che passare di qui Non è un'idea Proprio grandiosa Vero? E invece Ce l'abbiamo fatta E invece ti è Sempre credere in se stessi Ragazzi Grandi segnamenti Di Di League of Fortnite Bel succhetto schiaffoso Anche a un paio E si parte L'altra volta Siamo già entrati Qui dentro E abbiamo un po' esplorato La caverna va molto In profondità E io direi Che possiamo Tranquillamente Saltare Tutti questi scheletri E andare avanti Perché là sotto Forse c'è qualcosa di interessante Dobbiamo andare in profondità È inutile perdere tempo Qui all'inizio Andiamo in profondità Combattiamo Svuotiamo E cerchiamo Le risorse Che potrebbe nascondere Questa caverna E che sicuramente Non sono qui però Purtroppo C'è davvero Tantissima gente Ma Non sarà un problema Finché la spada Non mi abbandona Quanto meno Perché poi Allora lì Sì che potrebbero esserci problemi Potresti Lasciarmi passare Grazie Perfetto E guarda chi c'è Ma buonasera Ne ho tantissimi Dei tuoi gusci ormai Non me ne faccio Praticamente nulla Però Te killerò lo stesso Questo mi blocca La strada apparentemente Quindi dobbiamo Romperlo Per passare oltre Ripeto Io non so se sia voluto Ma La caverna Sembra continuare E andare Molto più in profondità Che sia la Zona giusta Dove andare I nemici Non ci sono più Non è un bel segno Sapete Perché Se gli scheletri Se ne stanno lontani Da qui Potrebbe voler dire Che c'è qualcosa di peggio Ok Com'è che non l'ho Killato Al primo colpo E cos'è questa Bistecca di scorpione Questa Credo sia Normalissima pietra No Sì Nonostante il colore È normalissima pietra E allora Noi Proviamo ad andare avanti Scheletri In realtà Ce ne sono ancora E questa grotta È incredibile Ragazzi Io vi giuro Io sto arrasciando E continua Continua a scendere Continua ad esserci Altre vie Non credo di star girando In tondo Perché Attendo Ad andare verso il basso E qui si va di nuovo Verso il basso Ok Sì Non c'è proprio Roba interessantissima Però Dove Dove finiremo Ok Forse Ho toccato il fondo Forse Nel senso che Non sembra esserci altro Qui sotto Sono dovuto risalire Perché ero praticamente Bloccato in un vicolo cieco Con tutti Gli scheletri Che mi inseguono Accumulati insieme Che non è proprio Una cosa bellissima Però mi sembra strano Non c'è niente di Di insolito Qua sotto E' un enorme giacimento Di marmo e nodo torto Che sicuramente Fa comodo Ma Non ha aggiunto nulla Al gioco Questa caverna Non c'è nulla di nuovo E questo è abbastanza strano Non saprei ragazzi Non mi convince del tutto Ma soprattutto L'upgrade Che dovrei fare Come si fa? Dove ritroverò i materiali? E' un mistero Forse E' il momento Di tornare Nella zona ghiacciata Ragazzi Credetemi Neanche io Ho idea Di come Abbia ritrovato L'uscita Sono stato Lì sotto Tantissimo Era enorme Sta caverna Però Ne siamo usciti E mi viene un dubbio A questo punto Mi viene un grandissimo dubbio Perché quello che ho detto Potrebbe non essere Stupido del tutto Dobbiamo avvicinarci Le zone innevate Finora Ho dato per scontato Che la progressione Del gioco Ci portasse Prima nel deserto E dopo Nelle zone ghiacciate Ma non è detto Che sia così Forse dobbiamo fare Un po' avanti Indietro Forse dobbiamo andare Prima nel deserto Poi nel ghiaccio Poi di nuovo nel deserto E poi infine ancora nel ghiaccio E se così fosse Potrei trovare lì Qualche cosa utile Quindi vorrei farci un giro Tanto qua c'è un'altra cavernina Che però Non penso Sia diversa Dalle precedenti Diversa è diversa Ma il contenuto Sembra non cambiare Ci siamo Ok Iniziamo ad avere freddo Quindi siamo Nella zona giusta Questi alberi Questi abieti Sono lo stesso legno O cambia qualcosa Forse Succo Ho una regen della vita E quindi annulla L'effetto del freddo Davvero fichissimo Beh ragazzi Detto questo Non ho trovato risposte Neanche qui Dovrò continuare A indagare Sicuramente Se aprissi Se aprissi quel pallone Che sta cadendo Sulla montagna Avrei sicuramente Del loot incredibile E lui chi è invece Aspettate C'è Della gente Che ovviamente Vuole Vuole attaccarmi Perché figurati Non puoi mica Essere gentile Con il prossimo In questo gioco No? Cioè Si è mai vista Una cosa del genere E tra l'altro Loro perché esistono? Qual è il loro scopo Nel mondo Oltre che farsi Headshotare In maniera piacevolissima E droppare Delle bistecche Questa è Carne Di umano Aiuto Lego Fortnite Cosa ci stai nascondendo? Beh Io me la mangio Nel dubbio E sarà anche il caso Di fermarci qui Ci vediamo questa sera In level 20 e 30 Per continuare Le nostre esplorazioni E domani Con un nuovo video Un saluto da Eren Ciao A tutti